La partita tra il Bologna e il Milan, che ci deve essere per l'appunto oggi alle ore 18 e il poveriggio alle 6, viene ad essere rinviata a data da definire, da destinarsi. E' proprio questa la decisione intrapresa da parte della Lega di Serie A dopo l'iniziale annullamento da parte del sindaco di Bologna. Vi starete chiedendo perché questa scelta un invio della stessa. Per colpa delle condizioni meteorologiche, le condizioni avverse. Vi ricordo infatti che da nord a sud il nostro paese, ossia l'Italia, è attraversato da maltempo diffuso, precipitazioni a carattere sparso, nubi, pioggia, battente, alluvioni. La situazione a Bologna è soprattutto molto molto drammatica. Emilia Romagna è infatti purtroppo interessata da fenomeni di deturbazione piena. Fenomeni temporaleschi, fenomeni di pioggia e maltempo che stanno portando ovviamente non poche difficoltà a quelli che in qualche modo abitano in Bologna e dintorni e limitrofi e in tutte quelle zone dove purtroppo si sta verificando il maltempo. Ed è una piega molto molto brutta, molto molto negativa. Mi permetto di dire. Ok, quindi quando si giocherà, ripeto, la scelta è stata detta da destinarsi alla partita. Però si potrebbe eventualmente parlare di come è data infrasettimanale tra il 15 di dicembre e il 20 di dicembre 2024, ovviamente, e potrebbe però portare allo spostamento anche delle partite del Milan che anche del Bologna stesso. Va bene? Cosa ne pensate voi di questa scelta di rinviare la partita a Bologna-Milan per colpa delle condizioni che sta vivendo Bologna, questa città capoluogo della regione Emilia Romagna? Condizioni meteorologiche avverse, devastate e terribili? Fatemelo sapere. Iscrivetevi, commentate e una buona giornata.